Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Seguiamoci questi ultimi minuti di Rieche Frosinone, due pari, appena pareggiato a Novavovic, come cavolo si chiamava, leggermente oltre la linea dei difensori. Partita sofferta, devo dire la verità, nonostante fossimo in vantaggio 2-1 fino a 5 minuti fa, nel primo tempo va in vantaggio di Frosinone in seguito a un calcio di rigore procurato per un fallo di Aja Pong, penso ci sia stato un incrocio di gambe tra lui e l'attaccante. Intanto sto rivedendo il gollo, ma come si fa? Come si fa? Poi è anche fortunato il Frosinone in questo caso. Allora, rigore comunque che lo segna il Frosinone, non chiedetemi che l'ha segnato, perché è un nome stranissimo, tipo Polacro, lasciamo perdere. Però a Aja Pong si fa perdonare, perché sigla proprio lui il pareggio, praticamente poco prima della fine del primo tempo, con una tipo di semi rovesciata di Mancino, rasodero, un bel tiro, e si conclude così il primo tempo. Il secondo tempo comincia bene, comunque con Lecce che controlla bene il campo, e troviamo il gol, praticamente su un errore clamoroso di Bardi, che praticamente ad andare a rinviare, arriva Mancoso, il nostro capitano, sempre guerriero, fossero tutti così i giocatori, mamma mia. Vai in scivolata a rubare palla a Bardi e praticamente a porta vuoto non può che segnare. Secondo gol del Frosinone, è meglio che non mi esprimo. Secondo me è un errore difensivo, credo di Calderoni, non ho visto bene le immagini. È praticamente Novago che ci si trova il pallone là, ripeto, era leggermente, ma parlo proprio di qualche centimetro in là, ma, ragazzi, la VAR bisogna assolutamente introdurla, perché non è possibile che comunque la Serie B è un campionato d'alto livello, e in Serie B accadono moltissimi di questi episodi. Secondo me la VAR serve molto, perché praticamente fino a questo inizio di stagione... Mamma mia, che parola che ho fatto Bardi sul Mancoso, non ci voglio credere. Ragazzi, ultimi secondi, Tacxitis in area di rigore. Ammonito Tacxitis per simulazione in area di rigore. Tacxitis, calmo, 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 calmo che non ti fai spellere, calmo. Calmo, calmo, calmo. No, no, no. Non c'era fallo qua. Guarda che cavolo di parata che ha fatto Bardi sul Mancoso. Colpetto di punta esterna, tipo di Mancoso, e Bardi fa una bella parata. Mamma mia, c'è la miseria, c'è la miseria, c'è la miseria. Ma porca miseria, che palle. Stavo dicendo, in Serie B accadono molti di questi episodi. Non solo a favore a Nosso, ma anche a Nosso sfavore. Tipo in questo caso. Fischia Bardi, rinvia Bardi e finisce così la partita. Due pari. Alla fine il pareggio è anche giusto per le occasioni che entrambe le squadre hanno creato. Però mi rode particolarmente, perché Bardi fa una bella parata alla fine per il Flosinone. E niente, finisce così. È un peccato. Non so se la serenetana ha perso. Stava perdendo 2-1. E niente. Bardi praticamente, croce e delizia del Flosinone. E niente. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. E buon fine settimana a tutti. Ciao.